Benvenuti! Quindi oggi per la lezione di canto sulle tecniche del vibrato dovete prendere la mano destra, la sinistra a forma di noce a forma di noce, già sono io la maestra e voi chiudete le due mani in modo da tenere una presa molto più viene vibrato anche il video perché rito e voi in questo modo fate dei movimenti avanti e indietro oscillatori però in un modo un po' più accelerato ovviamente come se stesse facendo in base al tipo di vibrato che volete ottenere esattamente no, aspetta, Anne! Dovete ci fare? dopo cantate una canzone che è praticamente io ho deciso di cantare il programma del tempo abbiamo anche il microfono! e il ritornello quindi farebbe in questo modo ovviamente è l'ultima parola del ritornello ovviamente non beva il problema quindi così la frase è I can see vuol dire io non bevo non bevo o muro io non bevo o muro io non vedo no? io non vedo? io non manno io non vedo io non capisco ma non capisco scusate è così I can see no, no, no vedete? allora questo è un vibrato basso perché non è male è bello poi se questo è un vibrato dovete accelerare questo movimento con scelettori e questo modo I can see ma dovete accettare? in questo modo avrete non solo così perché cevo è anche in scena assolutamente no, in scena soprattutto che avanti al nostro regista bene, Alessia Biorzi e Melody bravo Melody bravo